L'attualità del pensiero del Cardinale Martini in quello che oggi chiameremo la questione delle migrazioni? Il pensiero del Cardinale è sempre attuale perché ispirandosi al messaggio biblico ricorda che la migrazione non è un problema ma è un'occasione di trasformazione delle nostre società di far valorizzare il patrimonio di diritti e eguaglianza che l'illuminismo e il cristianesimo hanno dato all'Europa e trasformarlo in un'occasione di trasformazione delle nostre società. Diceva il Cardinale risolvere i problemi degli stranieri è risolvere i problemi degli italiani e questa è un'occasione per ripensare al nostro modo di vivere, agli stati e pensare che il futuro sarà un futuro di convivenza tra diversità in cui nessuno può pretendere di avere trattamenti preferenziali e lui diceva che i diritti fondamentali della persona e il principio di eguaglianza devono essere preservati per tutti e quindi la richiesta di leggi giuste di leggi che governano il fenomeno migratorio, di non farsi trovare di fronte alle emergenze e di guardare con spirito aperto e non come dire ostile di fronte a questa novità.